Rosso Gaugano è un'industria di trasformazione del pomodoro. Nasce dall'idea di quattro imprenditori locali che coltivano pomodoro da oltre un trentennio. Quindi la loro idea era quello di fare una filiera corta del pomodoro da industria, così loro li allevano e nello stesso momento vengono trasformati dall'industria di trasformazione Sita, Affoggia e Nipuglia. Il punto di forza di Rosso Gaugano è quello di avere una filiera corta, appunto dove tutta la filiera è controllata sia dall'acquisto del seme, la produzione della piantina, coltivazione del pomodoro e controllo qualità e trasformazione in un'unica azienda. Quindi possiamo definirla una filiera corta per eccellenza. I vantaggi della filiera corta di Rosso Gaugano sono quelli appunto di controllare tutto il processo di coltivazione e di trasformazione del pomodoro. Il vantaggio per il consumatore finale è sicuramente la tracciabilità del prodotto, quindi di capire dove il pomodoro viene effettivamente coltivato e trasformato. L'utilizzo del quaderno di campagna di Imagine Line è fondamentale per la nostra azienda, in quanto in un unico strumento ci dà la possibilità di tracciare il prodotto del pomodoro da industria, quindi di registrare tutti i trattamenti, fertilizzazioni e di tracciare il prodotto fino al campo dove è stato coltivato. Lo strumento di quaderno di campagna per la tracciabilità del prodotto avviene con una mappatura dei campi di produzione e quindi viene individuato il campo da dove è stato effettivamente coltivato e raccolto il pomodoro da industria, perché dà la possibilità al consumatore finale di vedere, toccare con mano quasi, dove il pomodoro viene coltivato e allevato. Possiamo andare a controllare tutti i trattamenti fitosanitari e le fertilizzazioni che possono essere effettuate sul pomodoro da industria. Questo ci permette di dare al consumatore finale un prodotto sano e sicuro. Consiglierei il QDC di Imagine Line perché oltre a garantire la tracciabilità del prodotto e quindi individuare qual è il campo fisico da dove è stato allevato e coltivato il pomodoro in campo, ci dà tutti quegli strumenti validi per garantire una buona qualità dal punto di vista della sicurezza alimentare del prodotto e il controllo delle molecole che vengono utilizzate sul pomodoro da industria, sia per quanto riguarda i tempi di carenza e sia della molecola che è stata utilizzata, quindi ammessa al disciplinare di produzione. I controlli effettuati dal QDC di Imagine Line sono importanti per la verifica delle sostanze ammesse sul pomodoro da industria o comunque su altri prodotti e facilitano l'aiuto del tecnico nel momento in cui va ad effettuare la prescrizione e tecnica per il trattamento. Mi chiamo Luca Vitobello, sono responsabile tecnico agronomico per Rosso Gargano.